È una forza di espansione che determina accrescimento cellulare, è indispensabile l'accrescimento per avere nutrimento, per avere ossigenazione, per avere espansione, per avere crescita. Non basta solo questo, è indispensabile poi avere qualcosa che contiene l'espansione, altrimenti la cellula esploderebbe e questo contenimento è dato dalla fascia. Quindi c'è un nucleo che va, immaginate che dal centro il nucleo cellulare emette tanti vettori che vanno verso la membrana cellulare, dall'interno verso l'esterno, una forza centrifuga mantenuta poi in essere da invece vettori che vanno verso il nucleo della cellula. Questa è una forza di protezione, non più di espansione, non più di crescita, ma di protezione cellulare. Sono le fasce, sono i meson, sono gli epipolum, sono la falce, il tentorio, sono tutti i legamenti che contengono questa esplosione.